Un saluto ai clienti di Escamashop, in questo video vi dimostreremo cos'è un case esterno 2.5, 2,5 pollici con attacco IVE per gli hard disk 2,5 pollici con attacco IVE. Vediamo dentro la confezione che cosa contiene la confezione del box, contiene il box interamente in alluminio, il box è in alluminio, lo asportiamo stesso dal rumore che va ad emettere il box. Ve ne accorgete che IVE in pratica perché sopra si è scritto soltanto HDD e anche dall'attacco, in pratica vedete tutti questi forellini in pratica è l'attacco IVE 2.5 per hard disk, a prescindere della capienza dell'hard disk, fino a 500 giga in pratica l'hard disk viene letto senza problemi, oltre c'è bisogno dell'alimentazione esterna indipendente. Eccolo qui. Avete in pratica anche la presa USB dall'altra parte, avete un LED che vi indica l'accezione e lo spegnimento del case, l'alimentazione viene alimentato direttamente tramite cavo USB, eccolo qui, vi viene dato in dotazione, il cavetto USB in pratica è uno splitter USB che in pratica attacca da una parte e dall'altra parte in pratica si sdoppia. Avete in questo caso, vi viene dato in dotazione, le viti di fissaggio per quanto riguarda, ecco, per tenerlo in un modo più rigido, l'hard disk all'interno del case, senza che possa vibrare e possa rischiare, ecco, sono memorie effettivamente sono molto molto delicate, quindi ecco, basta il minimo corpo che può guastarsi. Quindi ecco, vengono date queste viti e il cacciavite in pratica per poterle fissare, eccolo qui. Il cacciavite con la testa a croce, praticamente per poterlo fissare. Viene dato anche un simpatico, direi molto simpatico, foderino in pelle, in ecopelle, in pratica, dove potete riporre il vostro case contenente l'hard disk per una protezione maggiore. Bene, io ho concluso con questo, saluto tutti i clienti di Eskamo Shop, alla prossima! Grazie a tutti!